Mi chiamo Rosa, 62 a novembre, sono di Milano. Sono venuta a conoscenza attraverso Facebook. Ho iniziato a fare delle ricerche, ho mandato una panoramica da voi e ho deciso di affrontare questa esperienza. Sin da dopo l'intervento non ho più avuto problemi. Allora, devo dire che adesso sono molto felice, sono tornata comunque ad essere quella che ero. Chiaramente l'intervento non è stata una passeggiata, devo ammettere che non ho sentito dolori, non mi vedevo molto a livello visivo perché comunque la mia bocca non era ancora al top. Adesso sono veramente contenta. Qui devo dire che in due settimane, adesso una settimana di intervento e sei o sette mesi di attesa, sono riusciti a risolvere completamente i miei problemi. Consiglio vivamente a chiunque di fare questa esperienza perché in Italia è un calvario, non finisci mai. Grazie al dottor Palmas che ho avuto anche l'occasione di conoscerlo prima di fare l'intervento. La clinica è molto bella, perfetta, molto pulita. Mi sono trovata benissimo con chiunque, da quelli che mi hanno accolto all'inizio alla logistica. Sono molto carini anche gli appartamenti che ho trovato. Mi sono trovata bene sia col chirurgo che col protesista. C'è proprio, e anche tutto il personale, sono tutti molto gentili. Ti fanno sentire proprio a casa, ecco. Anche se ci sono duemila chilometri di distanza, diciamo che non senti la mancanza di casa, ecco.